Ciao bambini, oggi vi racconterò una storia per capire un po' cosa vuol dire pace. Un giorno i colori del mondo incominciarono a litigare. Ognuno di loro pretendeva di essere il migliore, il più importante, il più utile. Il verde disse, sono io il più importante, io sono la vita, la speranza, sono stato scelto per l'erba, per gli alberi e per le foglie, senza di me tutti gli animali morirebbero. Il blu lo interruppe, tu pensi solamente alla terra, ma io sono il cielo e il mare. L'acqua è la base della vita, viene giù dal cielo, dalle nuvole, dal mare profondo. Il cielo dà spazio, pace, serenità, senza la mia pace tutti voi non sareste nulla. Il giallo ridacchiò, voi siete tutti troppo seri, io porto il sorriso, la felicità, il calore nel mondo. Il sole è giallo, la luna è gialla, le stelle sono gialle. Ogni volta che guarda un girasole, il mondo intero sorride di gioia. Senza di me non ci sarebbe divertimento. Proseguì l'arancione. Io sono il colore della salute e della forza. Io porto le più importanti vitamine attraverso carote, zucche, arance. Io riempio il cielo, all'aurora o al tramonto. Il rosso che non sopportava più tale discorso urlò. Io sono il padrone di tutti voi. Io sono il sangue della vita. Senza me la terra sarebbe vuota come la luna. Io sono il colore della passione e dell'amore, della rosa rossa e del papavero. Tocco poi al viola. Lui era molto alto e parlò con grande superbia. Io sono il colore della regalità e del potere. Re e persone di potere mi hanno sempre scelto. Perché io sono segnale di autorità e saggezza. La gente non discute quello che dico. Ascolta e obbedisce. Infine parlò l'indaco, molto più quietamente di tutti gli altri, ma con moltissima determinazione. Pensate a me. Io sono il colore del silenzio. Non mi si vede proprio. Ma senza di me tutti voi diverreste superficiali. Io rappresento il pensiero e la riflessione, il crepuscolo e l'acqua profonda. Tutti voi avete bisogno di me per l'equilibrio, per la preghiera e per la pace interiore. Così tutti i colori continuarono a discutere e a vantarsi. Ognuno era convinto della propria superiorità. Ma all'improvviso un vagliore squarciò il cielo. La pioggia iniziò a cadere e i colori si avvicinarono per paura. Uno accanto all'altro. Nel mezzo di quel trambusto la pioggia cominciò a parlare. Siete davvero dei colori stupidi. Lottate tra di voi, tentando di dominarvi a vicenda. Non sapete che ognuno di voi è stato creato per uno scopo speciale, unico, diverso. Prendetevi per mano e seguitemi. Tutti i colori, ancora impauriti, si unirono e si presero per mano. La pioggia continuò a parlare. D'ora in poi, ogni qualvolta pioverà, ognuno di voi attraverserà il cielo in un grande arco di colore, in modo che possiate ricordarvi che nessuno è meglio di un altro. E fu così, bambini, che nacque l'arcobaleno. Un simbolo di speranza e di pace. Bene, bambini, quindi, ogni volta che la pioggia cade per lavare il mondo, quando vediamo l'arcobaleno risplendere nel cielo, ricordiamoci che tutti siamo importanti, nessuno è migliore di... dell'altro. è che bisogna apprezzare gli altri, darci la mano e vivere proprio come diceva Gesù, come tanti fratelli. E finalmente faremo un giro tondo di tutto il mondo. Come dice questa bellissima filastrocca di Gianni Rodari. Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani ed i francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove è sera, se qui è mattina, per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci e dormono dentro un sacco di stracci, per quelli che stanno nella foresta, dove le scimmie fanno sempre festa, per quelli che stanno di qua o di là, in campagna o in città, per i bambini di tutto il mondo, che fanno un grande giro tondo, con le mani nelle mani, sui paralleli e sui meridiani. Ciao bambini, un abbraccio a tutti dalla maestra Lucia.